Zanger, che non ha molto partecipato a questa manifestazione sicuramente bella e straordinaria, ma che, per un accordore come di tutta l'Inte, non ha mai fatto mancare l'affetto, la sicurezza dei nostri fronti, noi siamo una società veramente apposta, ha fortemente applicato quello che è di un certo importante in un'attività territoriale che è quello della Della, che abbiamo saputo gestire e amministrare i migliori dei modi, non è più che noi, sicuramente il Settigione è emozionato a soffrirà di questa mancanza, ma noi siamo riconoscenti, a lui e a tutta la sua famiglia, per tutto quello che ha fatto nel corso dei danni, hanno profuso finanziariamente i forti capitali, ma soprattutto, ripeto, hanno incontrato a noi quel valore che è la fiducia, che ci ha portato a montagna a ottenere dei risultati importanti e straordinari. Quindi concludo, dicendo di forza l'Inte.